La città portuale ucraina, Dariupol, viene bombardata ogni giorno. L'80% del patrimonio immobiliare sarebbe già fuori uso. Distrutto anche il teatro accademico di prosa della regione di Dionetsk, eretto nel 1960 in stile neoclassico con la pietra grigia di Crimea. Sulla facciata c'era una composizione scultoria con l'allegoria dei mestieri più diffusi nella regione, l'agricoltura e la lavorazione dei metalli. Negli anni scorsi ha ospitato rappresentazione di Tal Stoy, Pushkin, Molière, Chekhov, Shakespeare e non solo. Recenti fotografie satellitari antecedenti alle bombe mostrano come sulle due piazze antistanti, i lati corti dell'edificio, fosse stato scritto in russo la parola a bambini per segnalare ai militari russi di evitare il bersaglio. L'Italia, pronta a ricostruire il teatro di Mariupol. Approvata dal Consiglio dei Ministri la mia proposta di offrire all'Ucraina mezzi e risorse per riedificarlo, appena sarà possibile. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l'umanità, ha scritto sul tweet il ministro della cultura italiano Dario Franceschini. Grazie Dario Franceschini, ha risposto con un tweet il presidente ucraino Zelensky, ha dato un buon esempio da seguire. Insieme ricostruiremo il paese, fino all'ultimo mattone. Il teatro d'arte drammatica è vittima di un assedio che a Mariupol dura da 17 giorni. I suoi sotterrani erano usati come rifugio dalla popolazione civile. Sarebbero 130 gli scampati e rintracciati dai soccorritori. Grazie.